Vivere in un palazzo storico mi fa sentire un ospite privilegiato nella storia e nelle vicissitudini che lo hanno attraversato nel corso degli anni. Area 051. Imma e Elena raccontano i luoghi nascosti di Bologna. Bentornati ad Area 051. Puntata dopo puntata abbiamo scoperto come Bologna è cambiata negli anni, dagli Etruschi a Napoleone. Qui sono state scritte pagine importanti del nostro passato. Uno dei simboli di questa città dinamica che è cambiata nei secoli è Palazzo Pepoli, dimoria dei signori medievali che ospita oggi il Museo della Storia di Bologna. Ed è proprio lì davanti, in via Castiglione, che ci è sembrato di tornare a quel lontano 1337. Entrate con me nel più grande palazzo signorile della città. Queste mura imponenti si addicono ad una famiglia come la mia. Scusate, non mi sono ancora presentato. Sono Taddeo Pepoli, primo signore di Bologna. Mio padre Romeo era uno dei banchieri più ricchi d'Italia, ma a Bologna non riuscì a farsi amare. Fummo costretti all'esilio. Ma io tornai qui con l'intenzione di riprendermi Bologna. Dovetti lottare contro il consiglio del popolo, gli amministratori della città e le scomuniche del Papa. Ma alla fine ci riuscì. Oggi, di quegli anni gloriosi, rimangono solo queste mura. Tre anni dopo la morte di Taddeo, nel 1350, sopraffatti dai debiti e dall'ostilità del Papa, i suoi figli vendettero Bologna ai visconti di Milano. Ma passeggiando tra una stanza e l'altra del museo, insieme alla nostra guida Mirco Nottoli, abbiamo scoperto che a raccogliere l'eredità signorile dei Pepoli fu un'altra celebre famiglia bolognese, i Bentivoglio. Bologna non ha una signoria come i Medici a Firenze, che la rendono, diciamo, grande. Fondamentalmente Bologna è sempre stata la seconda città dello Stato della Chiesa, quindi sempre è stato un po', diciamo, a traino di Roma. Il momento di massimo splendore si aveva nel 1400 con i Bentivoglio, soprattutto Giovanni II Bentivoglio. Giovanni Bentivoglio era un gran signore, ha portato qui artisti come Costa e Aspertini, ma poi arrivò lei a rovinarlo. Sua moglie Ginevra Sforza, col suo fare da signora, non era altro che una strega, come la sua amica gentile Budrioli, la moglie del notaio Cimieri. Doveva finire sul rogo anche lei o tornarsene da dove era venuta. Sono anni che sento queste voci sul mio conto, ma sono solo invidiosi della mia vita e della mia ricchezza. Vedevano solo gli abiti lussuosi e i viaggi in carrozza, ma cosa ne sanno di cosa ho sopportato per arrivare lì. Avevo solo 14 anni quando sposai il sante Bentivoglio e dovetti aspettare la sua morte per sposare il Bentivoglio di cui ero innamorata. Con Giovanni trovai quello che tanto avevo desiderato. Il potere era nelle mie mani e nessuno ci avrebbe ostacolato. Affrontai la perdita di cinque figlie e le continue congiure, compresa la famiglia Mariscotti che ci voltò le spalle, ma io ordinai di ucciderli tutti. Non mi importava altro se non avere la mia vendetta. Del magnifico palazzo di Bentivoglio a Bologna non è rimasto nulla, se non un cumulo di macerie nel giardino del Guasto. Lo stesso destino non toccò invece a Palazzo Pepoli, che nel 1474 tornò nelle mani della famiglia che negli anni decise di ampliarlo con nuovi edifici. Diciamo che nel Novecento praticamente si esaurisce la dinastia e praticamente il palazzo viene donato al comune. Gli interni vengono dispersi e il palazzo subisce diverse trasformazioni. Nel corso del Novecento addirittura a un certo punto viene acquistato anche dalla banca, dalla Cassa di Risparmio, per poi essere abbandonato e diciamo che negli ultimi anni era in completo abbandono. Nel 2003 Palazzo Pepoli passa la fondazione Cassa di Risparmio e nel 2012 diventa sede del Museo della Storia di Bologna. Ad attendere i visitatori c'è un lungo percorso che va dagli antichi romani all'epoca medievale. Anche qui i segreti e le sorprese non mancano. Una fra tutte ci ha colpito molto. Il futurismo, su tutti i libri di storia, di storia dell'arte, di storia, leggete che il futurismo nasce il 20 febbraio 1909 quando il manifesto del futurismo firmato da Marinetti appare su Le Figaro di Parigi. In realtà nasce 15 giorni prima, questa è una roba che nessuno sa o quelli che lo sanno non lo dicono, ma è che è la prima volta che viene pubblicato il manifesto il 5 febbraio del 1909, non il 20, sulla Gazzetta dell'Emilia. Quindi fondamentalmente il futurismo nasce a Bologna. Come avete sentito di Palazzo Pepoli Vecchio è visitabile solo il museo, ma pochi metri più in là, in quello che oggi è Palazzo Pepoli Campogrande, vivono ancora dei bolognesi, un privilegio per pochi, come ci racconta Alessandro Orefice. Cosa si prova a vivere in un palazzo storico? Vivere in un palazzo storico mi fa sentire un ospite privilegiato nella storia e nelle vicissitudini che lo hanno attraversato nel corso degli anni. Inoltre ha un suo indiscutibile fascino e mistero che non finisce mai di meravigliarmi data l'atmosfera che si respira ad altri tempi. Artisticamente è stimolante, dato l'ambiente vissuto che lo circonda. Magari in futuro potrei prendere in considerazione l'idea di girarci un film? Chi può dirlo? Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Volete sapere dove andremo la prossima volta? Seguiteci su Incronaca!